eccoci eccoci ci siamo siamo operativi ragazzi sembrerebbe di sì ciao ragazzi come va tutto a posto ci siamo dai ho iniziato abbastanza giusto dai avevo detto 19 19 1 va bene va bene lo stesso come va ragazzi tutto a posto tutto bene allora dai grazie per essere qua con me oggi spero vi faccia piacere vedere questa live a caso dove torna impazzire su getting over it ragazzi l'uomo vaso da notte non vedevate l'ora vero io più o meno allora mi sentite bene tutto a posto spero di sì in teoria sì dai aspettiamo qualche minutino prima di cominciare intanto ciao ragazzi ciao a tutti bene abbiamo già la prima donazione di martin youtube e di riccardo lucchi con entrambi un euro grazie mille ragazzi un bacio grande allora ragazzi io lo so già che oggi vi accaterra tirerò giù proprio eh lasciamo per dire cose brutte diciamo così alex samate due euro grazie infinite alex tu ci sei sempre tra l'altro il pelato stavolta perderà vedrai alex stavolta gli facciamo un eh così madonna l'uomo vaso da notte dovrà subire e oggi subirà ora inizio a salutare ciao davide elmalac scusate se sbaglio i nomi ma ragazzi sapete che sono scemo ciao michele monopoli ciao samira mormen ciao elettromatti ciao rex un pad comunque nel corso della live saluterò ragazzi come sempre tranquilli madonna ho paura ho paura di avviare getting over it ragazzi io lo so già che sarà un trauma brutto non è successo mai che io sia riuscito ad andare avanti questo gioco infame perché continuo a portarlo sono masochista allora ve lo dico se e dico se oggi non dovessi riuscire ancora a concludere assolutamente nulla porterò un video sul canale dove uso i trucchi non me ne frega niente io voglio finire sto gioco visto che legit non riesco perché sono incapace o le mani sceme userò i trucchi dove metto tipo il martello grosso quanto una mia gamba voglio vedere se perdo lì sono proprio curioso eh vi giuro che lo faccio anche perché io ho provato tanti metodi per riuscire ma proprio non c'è verso raga non ce la faccio allora ciao alfredino palombo ciao fabio valtulini alex samat altri due euro raga non iniziamo eh quindi porterai anche la pallina da golf ti stai riferendo a golfing over it una cosa per volta raga già getting over it mi ha causato parecchi traumi vediamo però magari si dai la figlia della pagadina con un euro grazie infinite la figlia della pagadina grazie mille ragazzi allora come state come è stato tra l'altro il ritorno a scuola penso un trauma inutile chiedervelo mi ricordo quando andavo io porca vacca il giorno prima ma davo testate contro il muro sperando di svenire e non poter andare a scuola il giorno dopo è molto triste tutto questo ma è la verità era veramente devastante come è stato per voi ricominciare un altro anno scolastico brutto vero e vabbè raga è così che ci dovete fare allora che dite iniziamo io direi che possiamo incominciare ragazzi siete pronti a sentirmi impazzire come un fagiano io più o meno ma vabbè non siamo qua a radare le ascelle ai colibri voglio dire quindi facciamo così ancora non vedete nulla ma non vi preoccupate che adesso vi faccio vedere la schermata è tutto fantastico allora facciamo così abbiamo tra l'altro manuel maschi con un euro grazie infinite manuel gentilissimo e poi abbiamo zandrea 01 con un altro euro grazie infinite zandrea grazie anche a te ah mi metto le cuffie non servono a niente tanto l'audio è quello ah 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 quelli sono suolio però le metto lo stesso perché almeno posso lanciare qualcosa tutto qua semplicemente è quello il problema fa soltanto versi quel pelatone ok mettiamoci le cuffie ma ragazzi finirà male raga io lo so già che brutta idea vado alla schermata ragazzi così ricominciamo finalmente no ah 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 Giorgia capito con due euro grazie infinite Giorgia buonasera buonasera anche a te Giorgia gentilissima allora 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 abbiamo la possibilità di continuare io non so dove siamo arrivati l'ultima volta ma ho paura a vedere secondo me siamo agli inizi non sarebbe tra l'altro una novità voglio dire proviamo a vedere continua vai non pensavo così indietro ma siamo veramente all'inizio completamente neanche alla parte della montagna dopo l'albero cioè siamo proprio all'inizio ma io devo già spaccare tutto fin da subito basta dirlo dai pelato allora va bene dai ragazzi ci tocca ricominciare dall'inizio io l'ultima volta comunque non ero qua tra l'altro vedete che comunque sono abbastanza schillato ormai riesco a fare queste cose in un lampo il problema è dopo perché questo idiota come vi ho sempre detto ha la capacità di prendere vita cioè guardate in due secondi ah a posto sono già arrivato all'inizio queste cose le facevo dopo mezz'ora voglio dire quindi non è che non sono capace cioè più o meno non sono capace però lui non aiuta guarda che faccia proprio non mi viene voglia di dargli le testate sulle orecchie va proprio forte va proprio male ti schifo ti odio va bene poi vedo la gente con i pentoloni d'oro ma com'è possibile gente che finisce il gioco 28 volte siete persone incredibili dovreste andare su un altro pianeta a creare una nuova colonia perché siete fantastici va bene ragazzi dai proviamoci non demordiamo noi ce la possiamo fare mi raccomando ragazzi un like perché dovete supportare il fatto che io perderò la pazienza tra dieci minuti eh mi raccomando allora ragazzi siamo ancora qua dopo ventordici video dove ho provato mille volte ad andare avanti ma non c'è mai stato verso allora ok con calma va bene dopo ti do un kinderfett al latte se fai il bravo ma fino a quel momento ti prego di collaborare va bene so che per te collaborare vuol dire nulla non sai neanche il significato però provaci va bene ok fino a qua nessun tipo di problema ecco questi sono i versi che fa iniziamo già con i casi allora calma calma va bene e poi siccome se lo tiri fuori ha le gambe grosse così così ce l'hai sei un nano che cammina col martello fiero va bene dai lasciamo perdere allora in realtà a questo punto non è neanche complesso ragazzi e la cosa triste è proprio questa so dopo i casini cioè ma dove voglio andare se non riesco qua ma figurati cosa sto facendo della mia esistenza da ecco io lo so già ragazzi sarà una live infinita dove sbaglierò continuamente lui si tufferà giù e mi guarderà con sta faccia da pollipo scemo va bene citta 07 youtube con un euro grazie infinite citta hai visto quanto sono forte dario conti 04 con 2 euro grazie di cuore dario ragazzi io veramente vi chiedo di supportare il più possibile questa live con un live perché dovete sapere che questo pelato purtroppo ha la capacità di vedere quanti like lasciate e quando quando ne lasciate pochi lui dice allora mi butto giù posso farlo dobbiamo impedirgli di fare questa cosa assolutamente guarda è impossibile cioè proprio i movimenti che fai ok va bene e fin qua voglio dire easy nessun tipo di problema la spazzatura il gioco è la spazzatura questo gioco è spazzatura ok per quello l'hanno messa lì vi siete mai chiesti perché qua c'è la spazzatura perché identifica il gioco della spazzatura infinita va bene oh non ho fatto niente calmo vedi che prende iniziative io non sto scherzando ragazzi piano ok e fin qua ci siamo ragazzi nulla di troppo complesso voglio dire dai finché è così cioè non vedo problemi qua iniziano effettivamente perché bisogna saltare ecco vedi a parlare come un idiota pensavo di essere riuscito a farlo al primo colpo ma sarà lui non è d'accordo lui sente il bisogno di tuffarsi e la sua specialità vai senti pelato non mi far perdere tempo va bene abbiamo anche delle persone che ci stanno guardando in questo momento stai facendo una figura orribile va bene questa volta non ti salverò con i tagli tutti vedranno quanto fai schifo in diretta va bene allora no è inutile che ti annusi le ascelle non è il momento ok ora che abbiamo detto quello che pensiamo prendiamo coraggio e dai per favore abbiamo iniziato da 6 minuti sto già sclerando 6 minuti eh 6 di orologio comunque non sta fermo raga io adesso vi dimostro una cosa se volete io lascio il mouse vedrete che a una certa inizia a muoversi da solo questo vuol dire che è vivo adesso giusto giusto lascio il mouse e non lo fa vabbè perché sta ascoltando eh ma lui è intelligente vedi che si annusa le ascelle lui lo sa e quindi ti fa passare per l'idiota dai ti prego esatto così signori un pro e che cos'è raga una bravura infinita proprio buttati giù così dai bravo pelatone mio che se fai il bravo dopo ti compro crescina che ti faccio crescere una chioma folta i capelli fino a sotto la pentola così diventi tarzan tarzan in pentola fiero calmo questo passaggio è semplice non vogliamo mica non ti permettere a cadere adesso c'è questa parte oh raga vi giuro sei un idiota te la sei presa perchè ho detto che ti faccio crescere i capelli vabbè non te li faccio crescere rimani pelato va bene ma ti calmi no ragazzi è follia io vi giuro non sto muovendo il mouse di un millimetro si tuffa oh calma buttati giù così ok oh ma ti devi calmare con me ma ok godo proprio un riccio appena nato vabbè subito così senza pensare eh vabbè stavo scherzando bisogna pensare prima di andare non è che ti butti così a caso con lui non puoi farla questa cosa ok eh si bravo pelato dai ce la possiamo fare con calma abbiamo tempo fino alle 21 eh allora ovviamente ragazzi se a una certa vedo che le cose non migliorano ma peggiorano e basta magari possiamo pensare di cambiare perché sinceramente non ho la voglia di stare qua 8 ore nello stesso punto va bene ok va bene poteva andare peggio eh ragazzi sicuramente abbiamo fiery tv con un euro grazie infinite fire e poi abbiamo blocker killer con un altro euro grazie anche a te blocker ragazzi stiamo andando alla grande ok arrivati a questo punto bisogna riuscire a appendersi qua ecco questo già non è il modo giusto buttati piano giù ok e ci si appende perché sento che è pericolosa questa cosa va bene ma lo cosa è successo io non ho toccato vedi ma lo vedi ha tolto da solo il mater ma porca di quella vacca ero arrivato e dai e dai ti prego non ho più voglia di vederti mi dai fastidio sei fastidioso dentro tua madre ti ha abbandonato non ti vuole nessuno la gente ti odia te ne rendi conto l'importante è che tu lo sappia ok dai oh vedi quando lo insulti funziona di più perché dice adesso ti faccio vedere che in realtà sono utile ok stavolta oh vedi non far cagate oh ok ci siamo guarda come glitch tutto incriccatissimo tutto buggato sto uomo buggatissimo ok posa madonna me la sono vista brutta qua mi sono salvato sul calcio d'angolo va bene allora so che in realtà si potrebbe salire anche da qua dove c'è l'antenna ma è un macello è un casino molti dicono che è forse anche più semplice ma non ti tuffare con questa violenza dicevo non è semplice per me quindi opterei per salire da qua ragazzi che in realtà anche qua non è semplice però forse ho qualche possibilità in più vediamo stavo scherzando comunque ragazzi se pensavate che io stessi dicendo veramente vi sbagliavate di grosso dai ti prego madonna ecco qua sotto si ritorna all'inizio giusto per dirlo eh lo sapevate già però io ve lo ricordo non si sa mai madonna santa che no come rimbalzo come una cavalletta idiota oddio santa mi gira la testa sono su una zucca ma di che cosa stiamo parlando sto gioco è fottutissimo raga dai non ha senso è proprio sbagliato giocarci ancora dopo tutto questo tempo avrei dovuto lasciar perdere potevo portare my little pony era molto meglio ve lo dico io invece no guarda io lo so che cadrò io lo so ma proviamo a salire da qua magari è anche meno pericoloso non lo so allora bisogna fare un gesto si e io mi chiamo geronimo stilton va bene sono geronimo stilton ma è impossibile non ce la posso fare no non ce la fa non si può ma cosa voglio fare dove sto andando ma che cosa sto continuando a provare pure io mi illuno di ma vai via mi illudo di farcela ma smettila dai sei una capricciante allora sali qua appoggiati su questa sporgenza poi ti dice no come se fosse dispiaciuto no ti filo quel mortello dove non posso dire determina pericolo di caduta esattamente pericolo di caduta madonna ragazzi sto schiumando in una maniera veramente atroce dai ti prego te lo sto chiedendo per favore ma andiamo avanti sto facendo davvero una fatica immensa per non spaccare tutto sto provando ragazzi a usare tutta la mia energia positiva per non distruggere qualsiasi cosa che mi capiti a tiro però ve lo dico già questa cosa non accadrà la prossima volta va bene non è successo niente dai stai tranquillo ho soltanto dei momenti dove non riesco a tenere ma ragazzi state tranquilli che so quello che faccio allora va bene pelato siamo veramente partiti col piede sbagliato vabbè tu non hai piedi però nel senso se tu mi dessi una mano capisci che a una certa si potrebbe anche ottenere qualcosa di positivo entrambi io non ti insulto e io magari finisco finalmente sta cagata di gioco ora il problema quale di fondo che non so nemmeno come fare ad andare avanti questa roba di sicuro non aiuta allora sto tornando indietro a bestia proprio vedete poi mi passa la voglia mi gira la testa non me la sento dai allora sono caduto prima non so non so cosa sia successo ha deciso di lanciarsi quindi proviamo quantomeno a tornare là e proviamo in qualche modo esattamente a fare l'altra strada perché quella lì ragazzi non ce la faccio cioè in realtà non riesco a fare nessuna delle due questo potrebbe essere effettivamente un problema ok posati qui lanciati ok uno struzzo poi subito così dai non perdiamo tempo non facciamo perdere tempo alle persone così oh vedi ma sei proprio un idiota schifoso guarda io ancora dopo due anni e mezzo di tutto schifo di gioco non ho capito come fare per andare avanti è imbarazzante tutto questo ma com'è che sto cercando di non cristonarli dietro ragazzi non è facile lo comprendo allora facciamo dei movimenti rotatori col mouse senza senza sbagliare madonna i versi che fa sono proprio guarda si era pure buggato guarda già non è un zandrea 0-1 altri 2 euro e 20 per lui grazie di cuore zandrea stavo aspettando questo momento ecco grazie mi stavi ah stavi aspettando per confortare ti ringrazio ne avrò bisogno porca vacca guarda che gioco infame ragazzi ma qualcuno di voi l'ha finito davvero mi può dire come ha fatto per favore come ma prima l'ho fatto in due secondi adesso poi perdi la pazienza e quindi non riesci più a fare niente lui lo percepisce magari ho la sensibilità del mouse troppo alta sbaglio qualcosa di fondo nicolas s con un euro grazie di cuore nicolas gentilissimo anche tu ok no stai fermo un attimo non c'è verso raga è terrificante tutto questo non si posa ci arrivi è a malapena adesso si butterà giù tanto io ve lo dico raga ah ok allora adesso noi possiamo eventualmente oh tambazzo io ti giuro che ti faccio del male forse non ti è chiaro possiamo provare raga io sto oh oh ok vedete che vedete che vedete che con le buone maniere si ottiene vedete vedete che con le buone maniere si ottiene tutto ecco lui l'ha sentito e ha detto sarà ma sarà adesso voi non sentite forte quando do il pugno in realtà mi sono distrutto il polso perché l'ho dato veramente forte ma c'è il tappetino che attutisce altrimenti sarebbe già volato tutto l'ho dato veramente forte ragazzi ora io faccio fatica anche a muovere il mouse mi sono distrutto la mano non si può fare non si può fare non si può fare sto gioco non si può fare allora siamo in live da 23 minuti non ho concluso niente zero completamente pelato inutile dai guarda si tuffa sempre giù madonna ti ammazzare di botte se io potessi entrare nel gioco ti girerei la testa e caccheri dentro la tua pentola madonna concentrazione ci vuole solo concentrazione non ci vuole altro ok va bene azzardati a buttarti di nuovo giù no se il lag però no si mette di mezzo pure il lag come se non fosse già incasinato sto gioco guarda no tanto devo cadere ha già deciso che io devo cadere lui decide al posto nostro raga non c'è verso lui ha già deciso lo si vede dalla sua espressione da deficiente lui vuole tuffarsi giù allora dai ok sono tutto teso ho bisogno di una camomilla ragazzi non ci arrivo se no alle 2 ore di live io muoio prima non ci arrivo alle 9 non ce la faccio non me la sento c'è questo punto è facile vuoi andare avanti cretino oh dai ma cos'è che sbaglio che non capisco ok oh la perfetto arrivati a questo punto voi mi dite che devo salire da qua ragazzi provo ma non è per niente fattibile ma non riesco neanche a salire sopra ok allora questo era per darmi forza e coraggio devo capire come fare a farmi dare uno slancio incredibile allora devo fare ok fa ancora schifo come salto però poteva andare peggio ragazzi questo sicuramente è il metodo giusto ora riuscire a farla questa cosa è già un altro discorso ecco perché fai così perché hai dovuto sbattere il martello sugli scatoloni e se guarda io ti odio a morte ti giuro non ho mai odiato così tanto un gioco nella mia vita non sto scherzando raga cioè io lo toglierei dal commercio io lo toglierei proprio dal mondo io farei in modo che il creatore abbia comunque un piccolo problema nel senso cioè vorrei fargli del male un pochino lo ammetto perché cioè sei proprio odioso allora dai datti lo slancio non esagerare ti prego così ma non ci arriva uno slancio più forte di così non si può ma è troppo in alto ma chi le ha fatte ste scale chi è quell'ingegnere che ha studiato al cepu ma la smetti allora così raga non avete lasciato like ecco perché se lasciate like io vi giuro che ce la faccio wow wow allora oh senti ascoltami non è che perché tu sei nato pelato dentro una pentola devi prendertela con le persone che non c'entrano nulla eh no non si può non si può fare ragazzi è infattibile a dei livelli mastodontici guarda che schifo vai a cacare dentro un campo di grano ma non si può fare io vorrei salire da qua lo so che in realtà è la strada più semplice ma non si può qua in teoria non si rischia neanche di cadere di sotto però è un bacello raga è veramente devastante non è per dire oddio santo la fatica fermo fermo eh eh guarda che bel salto che ha fatto madonna ce la faccio più madonna questo era buono eh l'ho fatto a caso ma era buono raga quasi poteva riuscire cioè sarebbe proprio un salto devastante no ragazzi ce la stavo facendo l'ho toccato ragazzi l'ho to- vai dall'altra parte cretino che non sei altro ragazzi stava andando bene eh ragazzi ci stavo per salire vuol dire che ce la posso fare dopo 27 tentativi magari questa secondo me l'angolazione è giusta non so perché ho questo presentimento adesso tra poco inizierò a cantare quando canto non è un buon segno c'è un pelato devastante e il suo martello del ca e lui vive dentro una pentola io ci gioco ormai da due anni e passa ma sono ancora qua io provo e riprovo ma questo gioco non va e il pelato iniziative prenderà sulle scale devo andare ma a quanto pare non si può fare e prima o poi spaccherò tutto quanto se non ti muovi ti prendo a schiaffi in fondo lo sai che prima o poi ti ammazzerò la famiglia allora dai dai ragazzi dai in questo momento ci serve mi servirebbe il genio della lampada guardate il miracolo sarebbe riuscire a darmi la capacità di andare avanti su sto gioco che verso è sembra una mucca ma vai veramente vai a vendere cetrioli al mercato dell'usato perché allora questo è il metodo giusto ragazzi il problema ma vai ma stai un po' fermo nella tua vita schifosa vuoi imparare nella tua vita a stare fermo stai al tuo posto dentro quella pentola non hai amici non hai una famiglia non hai una vita non hai una fidanzata sei solo ti rendi conto si bravo guarda quel martello hai solo quello esatto e forse quei bidoni non hai nient'altro nella tua esistenza prima lo capisci e lo accetti meglio sarà ok sei solo completamente anche il barbecue in realtà non funziona non ti puoi neanche mangiare le salsicce no ma cacare dai per favore dai ah questo cioè riescono tutti riescono tutti perché io riesco perché no perché voglio saperlo perché perché non ce la faccio ma vai a prendertelo in quel posto ogni tanto che ti fa bene ma la porra allora secondo me sto sbagliando qualcosa di semplice come lo slancio no cioè si ma dai ero pronto per slancio guarda 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 come si tuffa sembra un delfino con dei problemi al cervello ero pronto per lanciarmi e lui decide di ma guarda che schifo si tra poco raga saluto qualcuno devo prendere una pausa perché veramente è straziante sto gioco oggi ho dovuto iniziare tra l'altro dall'inizio quindi mi ha tolto energie fin da subito proprio neanche il tempo guarda ok questo secondo me è perfetto cioè qua si può fare raga se prendi lo slancio giusto qua si può fare il miracolo porca vacca eppure io lì c'ero riuscito a salire una volta però dall'altra parte non da qua dall'altra strada non so come sinceramente sono riuscito però poi sono ovviamente caduto non è che avevo dubbi però non ce la faccio ragazzi non ce la faccio non posso farcela va bene non me la sento devo rassegnarmi al fatto che non si può non si può fare e dai ma c'hai delle braccia che sono dei polpacci christian de sica e datti sta spinta no oh dio ho mal di testa dai così fa il girello se proviamo dall'altra parte di nuovo magari stavolta va meglio sapete non è un'ottima idea vero e avete ragione anche voi raga ci provo perché sennò veramente stiamo qua tutto il tempo è inutile perché in realtà questa strada sembra più semplice ma guardate non è vero perché io faccio le cose troppo di fretta no non prendo fiato e lui ha bisogno di respirare perché è stanco c'è chi fa le speedrun raga con sto gioco non lo sapevo non lo sapevo chris lo sapevo lo sapevo non ce la faccio fin sono tornato sta casa no veramente per l'altro io ti giuro ti farò del male prima o poi riuscirò a trovare il metodo per entrare dentro ai giochi tipo tron t'ammazzo ti ficco la testa dentro al tuo stesso deretano crea una matrioska di te stesso proprio maledetto che non sei altro sei odioso fino ai livelli schifoso proprio schifoso maledetto raga io vi giuro mi gira la testa mi gira tantissimo la testa vorrei prendere a testate qualsiasi cosa un monitor il microfono tutto voglio svenire almeno ho la scusa per non giocare più ma siamo tornati è incredibile ragazzi è incredibile veramente è incredibile è devastante tutto questo è devastante raga io ve lo dico a un'ora io stacco tutto e passiamo piuttosto a geometri dash che quanto meno ci sono le musichette carine quanto meno è fattibile sotto alcuni aspetti si può fare perché qua veramente raga non si può io vi giuro che mi arrendo ufficialmente non ho più voglia la prossima volta se ci sarà userò i trucchi non me ne frega niente voglio finire sto gioco in 4 secondi netti proprio allora siamo a 36 minuti di live tra poco io stacco stacco basta metto golf metto stavo dicendo golf in government ma sarà metto geometri dash e via e basta ma tanto io ero consapevole comunque che sarebbe andata io lo sapevo già quando mi è venuta in mente di fare questa live ho detto ma perché lo faccio sapendo che finirà male perché ho dei problemi mentali perché perché tu non sali ad esempio perché rendi le cose difficili quando in realtà non lo sono certo ammetto che salire una montagna con un martello non sia la cosa più semplice però non è un problema mio se ti hanno creato così brutto idiota guarda che ti ficco la testa dentro il cesto allora tu ti devi muovere ti devi muovere allora ok dai forza così dai fa versi fa solo fa solo versi sa solo fare versi fa solo fare versi dopo mettere un video raga dove ci sono quelli che fanno le speedrun io voglio capire come è possibile io voglio sapere come fanno io lo so che voi vorreste che io continui su getting over it ma vi rendete conto vi rendete conto o no lo schifo non è fattibile dai per favore è una fatica cioè devi fare dei calcoli mentali calcolare il perimetro della zona calcolare l'intensità della potenza che devi mettere per salire devi calcolare quanto pesa sto deficiente devi calcolare il peso del pentolone per giocare a sto gioco devi essere laureato ecco perché io perdo sempre perché sono deficiente ho il quotiente intellettivo di un martello del suo di martello e per guarda che schifo guarda mi gira tutto mi gira ogni cosa non ho la forza non me la sento basta scivolare tra poco vi faccio un sondaggio raga in chat così voi intanto rispondete mentre io continuo a sclerare qua dietro ah ok va bene madonna meno male che c'è quella rientranza a forma di zoccolo di gnu questa è per chi conosce Aldo Giovanni e Giacomo allora no no ok si vai finalmente dai dopo mezz'ora siamo ancora qua ma non importa diciamo che sei stato bravo eh ma hai perso i capelli già da bim hai perso i capelli già da bambino vero hai perso i capelli in età adolescenziale quindi andavi a scuola e tutti ti prendevano in giro vero perché soprattutto eri dentro una pentola e tutti ti chiedevano ma perché sei pelato dentro una pentola e vai in giro con un martello per andare anche soltanto a fare la cacca ma dove la fai la cacca dentro la pentola ti cagli addosso fammi capire e quindi sei stato preso per il del retano tutta la tua vita bullizzato da sempre ecco perché sei odioso vero forse ora ho capito il perché io non oso immaginare dentro quella pentola quanta cacca ci sia quante feci pieno pieno così di cacca allora dai ok e fin qua nessun tipo di problema ora abbiamo capito che dall'altra parte si torna sempre all'inizio quindi devo per forza continuare da questa parte raga cioè per forza non si può fare diversamente proprio guarda ecco me cade guarda come io me lo sento già oddio santo devi fare i movimenti lentissimi perché se sbagli di un millimetro lui si tuffa giù raga è imbarazzante tutto questo eh eh allora piano così mamma mia la fatica raga e che cos'è mamma mia sarebbe più facile togliere i pelli dal deretano di un ippopotamo secondo me quello è molto più semplice cioè il creatore stesso di questo gioco quando lo avvi ti dice se hai avuto una brutta giornata fai altro non giocare lo sa benissimo c'è quell'uomo ha ricevuto più insulti di chiunque altro sul pianeta terra e lo dico eh però non si può fare allora adesso calmiamoci un attimo per favore devo prendere un attimo fiato va bene sto sudando sto impazzendo ho dei capelli che sono no sense terribili allora adesso io vi farò un sondaggio raga voi rispondete al sondaggio che uscirà in chat così vediamo un attimo adesso ve lo ve lo metto eh raga vi metto il sondaggino così mi dite la vostra eh raga ok c'è il sondaggio in chat raga andatevi prego a rispondere così capiamo un attimo cosa fare dopo addio ok ora c'è il sondaggio in chat raga mi raccomando rispondete ok allora e fa tempo che voi rispondete al sondaggio io proseguo qua provo a vedere se si riesce a fare qualcosa per il momento sta vincendo Geometry Dash raga col 60% capisco anche il perché voi vogliate che io faccia Geometry Dash perché almeno lì si vede qualcosa di diverso che è soltanto sto schifo avete ragione anche voi a un'ora probabilmente ragazzi staccheremo con Getting Over It e passeremo a Geometry Dash così magari così magari anche io mi rilasso un attimo sì non che quel gioco sia semplice sto parlando come se fosse una passeggiata quello però almeno rimaniamo sempre in tema Impossible Guarda che schifo rimaniamo sempre in tema Impossible Impossible Game Team e siamo tutti felici guarda che impressionante io non so proprio come fare ma porca di quella vigliacca terra dentro adesso inizierò a fare versi eh cocco incastrata sei una vacca incastrata sei un deretano umano sei uno schifo sei imbarazzante sei improponibile eeeh no sei senti tu gigropodacciae cosa ho detto gigropodacciae muoviti dovrei farli io sti versi non tu ah raga sta vincendo Geometry Dash e continuate a votare eh mi raccomando eeeh poi vedete quando gioco sto gioco mi escono versi improponibili eeeh oh è normale che inizi a fare versi cioè è scontato come fare la pipì dopo che bevi sette litri d'acqua al giorno è scontato proprio io prima di staccare e passare a Geometry Dash voglio vedere video di gente che fa gli speed run ma come cavolo fanno e non parlo di quelli che usano i trucchetti strani eh raga proprio legit c'è gente che lo fa in tre minuti follia follia era buono era buonissimo ho proprio visto il dopo me lo sono già immaginato come poteva essere ma qualcosa è andato storto ma per favore dai bisogna mettersi qua bisogna dove cavolo devi andare dai e dai ma vai forse ci penso troppo forse perdo troppo tempo ragazzi pensate che stia facendo apposta vero ma proprio no ma proprio no forse la sensibilità del mouse è troppo alta e quindi ogni movimento che faccio mi fa cadere allora entrambe le strade raga dovete sapere che sono un casino non è che migliora la situazione non è che cambia molto se non sei capace non vai avanti in nessun caso cioè non cambia niente zero completamente mamma mia madonna cara proprio alla zeb 89 questa madonna cara grazie Maria grazie mister file per il tuo euro gentilissimo magari con i canti angelici le cose migliorano che vi devo dire raga così così dai ooo 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 mi dice la testa Luca Lukaku con un euro grazie infinito anche a te vedete che a caso io non stavo manco guardando e stavo riuscendo quando mi impegno invece no sincerità io ti vorrei far del male vorrei tagliarti le gambe che probabilmente già non hai magari è qua che si deve salire magari sto sbagliando in realtà è questa la soluzione potrebbe essere anche questo mica si dice di no si prova raga c'è anche lo slancino si e io mi chiamo Brad Pitt dopo un incidente guarda che schifo poi la ghicchia no quando la ghicchia tu non riesci più a capire dove ti trovi questo fa ma poi si lancia dall'altra parte devi andare lì su su come Enrico la scopa su non giù secondo me è come con Akinator no c'è il microfono lui ascolta e sentendo che tu sei in difficoltà si fa le grosse risate e e va a cacare dentro dai dentro ha un bagno pubblico completamente cacato sentite proviamo da questa parte mi sto rompendo le scatoline è incredibile art art guarda che roba brutta guarda che schifo stiamo guardando stiamo assistendo allo schifo più schifoso dello schifo di un mondo schifoso fatto da schifo allora ok così esatto esatto perfetto ti prego ti regalo un Kinder Bueno si oh ragazzi avete lasciato like avete visto dopo un'agonia infinita mi girò la testa sto per svenire guardate come io guardate rimarrei così io non andrei neanche più avanti io rimarrei così raga perché so già che se vado avanti torno all'inizio guarda sto come hai fatto a salire fino alla bambino cioè c'è riuscito lui non ci riusciamo noi Giuseppe Lucariello un euro grazie infinite Giuseppe gentilissimo allora adesso io che cos'è che devo fare esattamente non cadere magari questo potrebbe essere un qualcosa di positivo se non allora ho rischiato ve lo dico mi sono voluto tuffare senza pensare così come viene viene ho detto e fortunatamente è andata abbastanza bene ora devo riuscire a tuffarmi sugli scatoloni dove c'è scritto fragile ok da lì devo scendere e arrivare sulle scale dove prima dovevamo salire direttamente con un unico salto cioè è pazzia è pazzia sto gioco lo può giocare soltanto un fisico nucleare uno che ha studiato 48 anni della sua vita altrimenti no guardate guardate adesso lo slancio che non servirà assolutamente a niente ma servirà soltanto a cadere guardate come ve lo sto dicendo eh tre raga lasciate like due ragazzi lasciate like oddio stavo già pensando troppo e lui aveva capito e si stava per tuffare la soluzione è stata buttarmi così ok quante scatole ci sono manco amazon madonna santa allora adesso noi ragazzi dobbiamo fare un qualcosa che non è difficile di più sono riuscito a farla solo una volta e tra l'altro l'ho fatta sbagliando sono riuscito sbagliando a fare la cosa giusta per farvi capire non bisogna salire bisogna scendere e bisogna farlo aggrappandosi lì a quegli scatoloni vi rendete conto io adesso se mi lascio e non riesco a prendere le scatole torno al barbecue è un circolo vizioso sto gioco è infinito è infinito fottutamente infinito ho l'ansia ho un'ansia che non potete capire raga like raga like ho un'ansia fottuta se mi lascio e non riesco a prendere le scatole siamo punte a capo e io metterò un video di uno che ha fatto uno speed run perché voglio capire e poi passiamo a geometry dash perché ne ho le scatole piene per non dire altro ho i disticoli giganti eh meglio dai pelato ti prego ti regalo un kinder bueno un raffaello un ferrero rocher e anche magari che ne so un kinder pinguì se vuoi ti regalo anche il kinder pinguì raga si sta scollando no io non ci posso raga io vi giuro su quello che ho di più caro al mondo non ho fatto niente raga vi giuro si è lanciato da solo l'avete visto tutti quanti io non stavo toccando il mouse è iniziato a scivolare sempre di più ma quando me ne sono accorto ormai era troppo tardi per te niente dolci infame soltanto carbone dalla befana schifoso che non sei altro lurido sei lurido dentro hai proprio nel sangue l'essere lurido ma è schifo sei impezzente inutile sei incapace di vivere sei incapace di essere un un amico io mi fidavo di te ti avevo promesso il kinder bueno e non si rifiuta mai un kinder bueno un kinder pingui che delusione una delusione veramente il ferrero rocher poi è riuscito a fare una cosa del genere dopo che io offro il ferrero rocher devi essere proprio una bestia di satara allora dai che siamo ancora in partita in qualche modo in realtà più o meno ma prima come cavolo fa vedete c'è tutto a caso tutto a caso completamente non io non so perché io prima sia riuscito non lo so è a caso guarda va sul posto salta sto deficiente sopra l'ombrellone guarda ok va bene dai ma eh sì eccoci finalmente e adesso dai mamma mia rambo ro in the sky i'm alone in the sky that's more na 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 ok adesso tu non ti puoi buttare giù non hai la capacità la possibilità non puoi aspettiamo un attimo prendiamo fiato e poi vediamo di riuscire a tuffarci di sotto senza fare danni ok dai devo forse cantare una canzoncina prima per darmi coraggio che devo fare che devo fare dai dai allora proviamo a vedere una canzone questo ragazzo della via gluck anzi questo pelato della via gluck si divertiva a giocare con me ma un giorno disse io me ne sbatto ragazzi ma io quando gioco a questo gioco divento più scemo del solito ma per forza hai una soddisfazione quando riesci cioè proprio ti viene da fare la diarrea per quanto sei contento perché non capisco allora adriano celentano ci ha portato fortuna ragazzi questo pelato della via gluck si divertiva a giocare con noi anzi non con me mattia tosi con due euro grazie di cuore mattia sei mai venuto in veneto una volta sola allora dai le scale sono qua raga non posso sbagliare cioè sono qua accanto poi bisogna salire sulla sedia e poi dopo non lo so poi dopo non lo so che cosa mi aspetta porca questo pelato della via gluck si divertiva a giocare con noi ma un giorno disse io me ne sbatto e continuo a cadere a caso ma prima poi troverai colui che ti farà del male guardate la mia faccia guardate la mia espressione questo succede quando senti del dolore capito quel dolore che ti fa stare male dentro kratos swag due euro grazie di cuore kratos gentilissimo però al momento sono un po' nervoso ma poi guarda che capelli che cos'ho in testa un furetto esploso canta le notti d'oriente è già fatto kratos tranquillo non hai servito a niente non ha portato fortuna stai tranquillo allora ragazzi adesso io disinstallo il gioco intanto proprio non ti voglio mai più vedere pelatone stupido esci esci ok non vedete nulla state adesso vi metto il video di qualcuno che è stato in grado di fare la speedrun su getting over it adesso io lo devo vedere allora vediamo un attimo questo secondo me ha usato i trucchi un minuto e zero due raga un minuto e zero due adesso io lo apro voglio capire cioè devo capire un attimo allora vediamo un attimo ragazzi insieme questa speedrun allora bluff è riuscito si vabbè non mi interessa facci vedere come fa ok ha già la pentola dove un attimo un attimo un attimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avete visto? Non si è fermato un secondo. Secondo me quelle sono dei trucchi. Non è normale. Non è possibile. Allora. Va bene. Lasciamo perdere. Facciamo finta di nulla. Io arriverò a quel livello. Non vi preoccupate. Userò i trucchi. Non me ne frega niente. Non me ne frega nulla. Allora. Ci sono state 5052 votazioni al post che vi ho messo. Ha vinto Geometry Dash 55%. Per cui ragazzi mettiamo Geometry Dash. Non è normale per niente. Non è possibile. Non è possibile. Un secondo che faccio partire Geometry Dash. Ci sono rimasto molto male. Veramente. Sarò sincero con voi. Io ci sono rimasto veramente male. Ma vi rendete conto che cos'è appena successo? Giovanni Paolo Salermi. Con un euro. Grazie di cuore Giovanni. Gentilissimo anche tu. Raga. Ho visto qualcosa che veramente non ha senso. Secondo me quella persona se è riuscito a fare questo senza trucchi è disumano. Dovrebbe veramente e non lo dico tanto per avere le chiavi di ogni città del mondo. Cioè proprio tutte. Allora. Allora vediamo un quante. Devo mettere le... Non so che sto dicendo. Allora. Allora. Devo settare un attimo qua. Facciamo così. Ok. Adesso. Ve lo faccio vedere anche a voi. Raga. Ma l'avete visto. Veramente. Io ho boh. Geometry Dash ragazzi. Siamo su Geometry Dash. Ovviamente qua andremo a giocare ai vostri livelli. Mi sembra giusto. Non so se ne avete creati altri. Non ho controllato. Però. Ma cos'è questa qua? Scusate. Ok. Non lo so. Non lo voglio neanche sapere. Sarà sicuramente una roba allucinante. No. Ho sbagliato. Scusate. Ho fatto un errore. Ok. Allora. Mettiamo Fancy e cerchiamo. Ok. Ci sono un bel po' di livelli. Qua cos'è sto più? Proviamo questo. Che comunque è difficile. È stato giocato un po' di volte. A 54 like. Ed è abbastanza lungo XL. Devo scaricare qualcosa? Sì. Vediamo un attimo. Speriamo che la musica non abbia il copyright. Se no me lo mettono in quel posto. Ci manca solo quello. E siamo a posto. Allora. Ciao Sofia Falcone. Ciao Mattia Cometti. Pa 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 pa. Mi state divertendo raga? Immagino di sì vero? Cos'è? Ok. Non so che cosa è appena successo. Eeeh. Sì. Va bene. Ragazzi. Che cosa sta succedendo esattamente? Io non l'ho mai aperto. Lo sto giocando con voi. Ma che c... Ma è tipo Kirby. Ma cosa sta succedendo? Scusate. Cos'è sta figata pazzesca? Fancy è scritto male. Ed è tutto figo. Allora. Meravigliosa tutto questo. Ma stai scherzando? Non sto facendo niente. Ma l'ha scritto male però il mio nome. Dai. Apprezzo l'impegno però. Ma thanks è scritto così. Dai. Era tutto figo. Ehi. Welcome to the... This is where we keep... All the... Help with some effects. Yeah. I know. Che figo. Ma io non sto facendo niente. Ma che è sta figata raga? Ma l'avete mai vista una cosa del genere voi? Hey. Fungi guys. Ma che cos'è sta figata pazzesca raga? È un film. E balliamo raga. Ballate con me. Ballate con me raga. No vabbè ma è meraviglioso. Tu che hai fatto questo livello. Dopo leggere il tuo nome sei un genio del male. Se l'hai fatto tutto tu. A parte il nome che è scritto un po' male. Ma sei un genio. Ma è la prima volta che vedo una cosa del genere sui diametri dash. Mi hai risollevato il morale dopo che ti governi. Grazie mille. Sì vabbè. Quanto dura però. Ma io non posso fare niente. Cioè non c'è il quadratino che fa cose. Vabbè ragazzi è meraviglioso. È una musica. È bellissimo. Vabbè ragazzi ma cosa state facendo? Siete incredibili. Ester Ex Zero. Va bene. Uno. Due. Tre. Quattro. Cin. Ma ero io che cliccavo? Cosa? Sto cliccando raga. Venti. Venti qua. Ho fatto bene? Non so cosa è successo. Fly through the... Ah devo fare io adesso? Ehi. Sto giocando. Ho perso. Ho perso pure qua. Vabbè. Me la conta buona lo stesso vero? Sono riuscito a perdere pure qua. Io non ci posso credere. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma cos'è sta figata? Ma vai che roba? Ragazzi ma state ballando come spero? Vero a casa. Ballate così. Questo è il balletto giusto. Muovendo le spalle. No vabbè. Io pensavo di aprire geometri dash per muovere il quadratino e fare i livelli. Invece no. Stiamo ballando alla fine. Ma questo è il bello. Ehi. Queste cose sataniche. Cosa è successo qua? Eh? Io continuo a cliccare a caso. Magari succede qualcosa. Ragazzi ma è fighissimo. Dai ballate. Ballate con me. Perché c'è un quadratino cattivo? Galagia. Made by Cosmic Dani. Grandissimo. Hai fatto una roba. Allora. Probabilmente si è accorto di aver scritto male il nome. Ha detto. Scusami. Va bene. Ti perdono perché hai fatto una roba incredibile. Dai. Sei stato bravissimo. Thanks. Si è scritto bene. Dai. Level complete. Sono stato forte. Grande. Mamma mia. No ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliatissimo. Madonna ragazzi. Che cosa ho appena visto. Una figata pazzesca. Grande Cosmic Dani. Sei geniale. Ma sei pazzesco. Orazio. Il nome della vita. Orazio. Ragazzi dovevo fare Orazio. Che è livello normale. Ed è anche short. Quindi. Possiamo farcela. Dai. Orazio mi raccomando. Ciao Fancy. Questo livello è facile. Non prendere. Ora tieni premuto. Orazio. Allora io non so se tu stai guardando questa live. Però è meraviglioso quello che è appena successo. Ma hai anche detto che cosa fare. Io sono riuscito a perdere lo stesso. Ti rendi conto vero? Ti stai rendendo conto come me che io ho dei problemi. Non è che lo dico tanto per. Io ho effettivamente dei problemi. Sono arrivato a 22%. Mi ha detto. Stai tranquillo. È tutto facile. È tutto. Sono. Ho perso. Ho perso. Ciao Fancy. Questo livello è facile. Non premere. Ora tieni premuto. Ok. Ah. Devo proprio teni premuto. Perdonami. Ok. Basta leggere. Effettivamente. Basta leggere. Non faccio neanche quello. Non so leggere. Sto perdendo in un livello dove non si dovrebbe perdere ragazzi. Tengo premuto eh. Ora facciamo. Premi. 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 Premo. Premo. Ma tu non hai grande Orazio? Sei un grande Fancy. Sei un grande tuo Orazio. Mi hai fatto vincere. Se non avessi scritto io ti giuro che sarei ancora là a chiedermi che cosa ne sto facendo della mia vita. Grande Orazio. Like per Orazio. Madonna. Sono questi i livelli che mi piacciono. Dai. Fino a sto andando bene. In un livello non ho giocato. Nell'altro mi hanno detto che cosa fare. Posso vincere solo in questi casi. Sono veramente triste. Lo ammetto. Poi abbiamo un livello di Matteo Ochi. L'Ochi. Ochi Tasc. Vabbè la smetto. Allora. Questo è già hard. Potrebbe essere un problema. Noi ci proviamo lo stesso. Magari. Ehi Fancy c'è il boss raga. Ti ricordi di Messi che mi ricordo di te. Più facile per te. Ehi. Oh. Che cazzo. Sì. Vabbè allora io mi chiamo D'Artagnan. E come D'Artagnan faccio la cacca dai tetti. Lo sapevate? Allora abbiamo il boss in questo livello raga. Allora. Eh però è un casino. Cioè come. Cos'è. Cosa è successo? Sto andando al contrario rispetto a prima. Allora. Va bene. Abbiamo capito che questo livello già è più difficile degli altri. Però. Oh. Beh. Ho avuto quasi un attacco epilettico. Non ci ho capito più niente. Tutte ste luci spara flashate in bocca. Cioè. Ragazzi. Dovete capire che io non è che ce la faccio a fare queste cose. Il mio cosiddetto elettivo è abbastanza basso. Allora qua basta. Tenere il primo. Ma che cosa? Ma che cosa? Se sei arrivato fin qui ti stimo. Guarda. Ti stimo anche io. Tu mi hai illuso. Tu mi hai illuso. Non me l'aspettavo. Perché tu mi hai detto che ero stato bravo. Allora io mi sono fidato. E ho pensato di non dover fare più nulla. Invece no. Avrei dovuto continuare a dare il mio contributo. Non è un livello che si gioca da. Che delusione. Allora qua è facile. Perché non devo fare nulla. Ok. Sì sono arrivato qui. Io sono fortissimo. E va bene. Ok. In realtà si giocava da solo. Sono un cretino innato proprio. Si giocava da solo lì. È fattibile raga. Posso farcela. Si può fare raga. Si può fare. Ok. Così. Anche la musica è figa. Se sei arrivato fin qui. Ti stimo anche io. Dai. Dai. Così ti voglio. Fammi il livello da solo. Arrivato a questo punto. Devo dare un contributo. Non cliccare. L'ho fatto per te. Grazie mille caro. Ma cosa? Però inizio a provare dell'odio. Inizio a provare della rabbia. Incredibile. Ti sto per guardare male. Allora se mi... Non mi dire. Non premere nulla. Che faccio io per te. Se poi devo cliccare. Perché altrimenti perdo. A 64%. Mi devo arrabbiare. Vado là per fare. Mi manca le... Allora si può fare però raga. Ce la possiamo fare. Dai. È un livello comunque difficile. Ma allo stesso tempo anche facile. Perché in alcuni casi fate anche voi per me. Ecco qua dovevo fare io. Però mi dimentico perché sono stupido. Ok. Allora. Xfellox un euro. Carissimo. Mi ricordo di te. Grazie di cuore caro. Allora. Ok. Ok. E fin qua. No problem. Si fa. Si fa. Senza problemi. Dopo devo cliccare. Qua. Abbastanza. Non cliccare l'ho fatto per te. Quindi. Io non devo cliccare qua. Va bene. Poi quando è che devo iniziare a cliccare? Quando è che devo cliccare? Adesso ho fatto pure meno. Non capisco. Siamo a 9 tentativi. Dai. Però la musica è figa. Dai. Quello è figo. Cioè in realtà anche il livello è figo. Però. Dovete capire che non ce la faccio. Non me la sento di vincere. Raga. È più forte di me. Io preferisco perdere. Mi piace proprio essere perdente. Oh. Allora. Devo capire quando è che devo iniziare a cliccare. Non me lo dice. Quando devo cliccare? Quando devo farlo? Non è che si è buggato in realtà doveva andare da solo. Poi però. Qualcosa è andato storto. Può essere anche quello eh. Perché mi sembra strano. Solitamente quando dite non cliccare. Non devo veramente cliccare. Poi si vince. Invece no. Però la musica è figa eh. Quindi anche qua raga si balla. Madonna. Perché sono deficiente che mi distraggo a ballare come un orangotango. Anziché impegnarmi qua. Allora. Dai. Ragazzi si può fare. Ce la possiamo fare. Fidatevi di me. Dai. Dovete credere in me. Allora. Madonna. Poi vedete ste luci negli occhi. Proprio ho le pupille esplose. Dai ti prego. Finisci il livello da solo. Scusami. Dici di non cliccare. L'ho fatto per te. Allora dai. Allora io non clicco. Vediamo. Ma lo vedi? Ma lo vedi allora? Allora. Devo arrivare a un punto. Dove purtroppo devo cliccare io. Dove devo capire quando devo cliccare. Ma come faccio? Come dovrei fare? Non capisco. Ma porca vacca. Secondo me mi devo arrendere raga. Secondo me devo cambiare il livello. Perché questo non fa per me. Anna certa io devo capire cosa fare. Non sono in grado. Ma poi il Geometry Dash è diventato un casino. Cose che si sdoppiano. Si moltiplicano. Diventano piccole. Alieni. Cosa? Ma guarda. Pensavo di aver fatto la cosa giusta. Allora deve esserci un momento in cui io sbaglio. Devo cliccare. Ma non lo so. Perché non me lo dice no? Non sapendolo. Faccio cagate. Faccio errori. Faccio errori madornali. E quindi devo ricominciare sempre da capo. Anna certa. Io ve lo dico raga. Cambiarò il livello. Perché voglio dire mi fa già male la testa. Ho sbagliato. Sono stupido. Perché devo guardare là. Non qui. Mi fa male la gola. Mi fa malissimo la gola raga. Allora ve lo dico alle 9. Concludiamo questa live raga. Magari ne portiamo un'altra la prossima settimana. Dove continuiamo Geometry Dash. Oppure possiamo portare anche GTA 5 volendo eh. Ve la butto lì. Ci potrebbe stare eventualmente anche GTA 5. Visto che non lo porto quasi mai. Anzi. Diciamo mai praticamente. Quindi facciamo così. Magari la prossima live sarà su GTA 5 ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate voi. Speriamo che l'online però funzioni. Perché l'ultima volta che ho provato. Ci sono stati dei problemi. Diciamo così. Non andava niente. E poi c'erano tipo hacker. Che rendevano ingiocabile tutto quanto. Non potevi fare niente che esplodevi. Mamma mia. Mamma mia. Che cosa ho fatto. Ascoltami. Bellissimo livello Matteochi. Ma non fa per me. È troppo un casino. È difficilissimo. Giampaolo vi sconti con 2 euro. Grazie di cuore Giampaolo. Gentilissimo. Un bacio grande. Proseguiamo con. Vediamo un attimo. Andiamo avanti. Che questi sono molto arrabbiati. E non mi va. Tutti difficili. Gua che roba. Normale. Da Rasta Ison Fire. Bello. Cosa. Che cosa. Non ho fatto niente. Non posso giocare. Non funziona il livello. Ma porca vacca. Speravo di fare questo. Ok. Facciamo Gabri 64. Anche questo. Perché non va. Dai. Ho i livelli facili. Non me li fai. Ma che è successo. Ma si è bagatissimo. Cosa è successo. Fancy tutorial. Perché non va. Raga. Perché non mi funziona più. Niente. Non funziona. Cioè questo. Ok. L'ho già giocato. E va. Questo. Non va. Vabbè. Però se si mette contro. Anche il gioco. Lo provo a riavviare. Che ansia. La mia vita. E non va mai bene niente. Proviamo a vedere se riavviandolo riparte. Non lo so. Se era bagato raga. Non funzionava più nulla. Riapriamo. Vediamo. Se è la volta buona. Ogni tanto si bagga raga. E che vi devo dire. Ok. Ritorniamo. Penxie. Vediamo eh. Bene. Non ci sono più livelli. Non va più niente. Non va nulla. Zero. Ma cosa è successo? Ditemi voi se è normale questa situazione. Ditemi voi se è normale tutto ciò. Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Provo un attimo prima di tornare alla schermata di Geometry Dash e vedo se funziona raga. Non lo so. Si deve essere bagato. Ok. Ok. Adesso va. Deve essersi bagato per un attimo. Non so. Proviamo Fancy Tutorial. Cioè è il tutorial. Questo in teoria dovrebbe essere fattibile. Scarichiamo anche la canzone. Vediamo. Ma non è che l'avevo già fatto questo. Non mi sembra. Anche perché ho dovuto scaricare. Ciao Fancy. Volevo solo dirti che sei un grande. Quindi ti meriti questo. Cioè. Un tutorial per giocare meglio visto che hai difficoltà. Grazie mille. Salta gli ostacoli. No vabbè. Mi ha fatto un tutorial per capire come fa. Se sei. Non cliccare. Ok. Perché trema. Prova il livello. Va bene. Lo provo. Grazie mille per aver creato. Fancy. Non c'è un livello. Non ho capito. Raga. Allora. Questi livelli sono veramente meravigliosi. Perché non devo fare nulla. Grazie mille. Like. Grande. Dai. Mi ha insegnato come giocare. Effettivamente. Dai. Poteva andare sicuramente peggio. Grazie Simo. Donne 1. È stato molto educativo il tuo livello. Proviamo ad andare oltre ragazzi. Questo proprio. Mamma mia. Voglio qua. L'avevo già provato. È arrivato a 30%. Già penso che sia stato un miracolo. Proviamo Fancy 2. Di Lord Player 31. Questo è il livello normale e timing. Quindi anche abbastanza breve. Proviamo ragazzi. Che vi devo dire? Proviamo. Eh sì. Ma il tempo. Guarda. Non ho neanche avuto. Sì. Ma siamo già a 6%. È velocissimo. Che questo col... Non ho il tempo. Non ce la posso fare. Ok. Eh. Dai ma è semplice. Ok. Ce la posso fare. Devo solo comprendere... Dove mi trovo intanto. Perché ancora non l'ho ben capito. Livello facile. Ok. Devo... Mi dimentico. Mi dimentico che non devo rimanere... Ma guarda che imbarazzante. Ok. Ok. Provo a cliccare raga perché... Uso il mouse perché... Ok. Sì. Molto meglio. Oh. Sì. Grande. Mi è piaciuto un sacco. Dopo che ho perso comunque anche qui un botto di volte. Grandissimo. Bellissimo anche questo livello di role player. FENX impara. Mi stai minacciando. FENX impara sempre di Matteochi. Non mi fido più tanto. Sono sincero. Non mi va. FENX Elite. Da Jank88. Proviamo anche questo livello normale. Mattia Tosi 2 euro. Stavo leggendo qua. Mattia Tosi 2 euro. Grazie di cuore Mattia. Per altri 2 euro tra l'altro. Portare mai un altro video sul secondo canale? Sì ragazzi. Non vi preoccupate. Devo solo capire che cosa. Però sì. Porca. Allora. Questo in teoria è un livello facile. Giusto? In teoria sì. Qua non devo fare nulla. Esatto. So fortissimo. Ho perso solo una volta. Finora per... Due volte stavo scherzando. Tre volte a quanto pare. Perché ho dovuto leggere. Qua. Ottimo. Va bene. Un livello del genere io continuo a perdere. Senza motivo. Mi fa veramente piacere. Le musiche sono fighe. Però raga. Effettivamente. Ecco. Esattamente. Ah ma dura poco. Ottimo. Dai. Qua non devo fare nulla mi sa eh. Guardate il movimento delle spalle raga. E si vince così. Così. Ragazzi. Si vince così. Tutti li voglio finire. Anche. Harder. Dai. Dai. Si così. Scarichiamo anche la musica. Madonna. Adesso spacco tutto. Vinco sicuro al 100%. Forza. Fammi vedere. Fammi vedere che cosa sei in grado di fare. Porca vacca. Stavo scherzando. Dio santo. Mi è venuto mal di testa. Allora. Eh. Però è un po' un casino. Capisci. Qua è pure tutto in visi. Cioè come pretendi? Musichette molto rilassanti. Peccato che il livello non fa rilassare. Fa solo. Arrabbiare leggermente. Eh. Mi dimentico. Cioè proprio. Mi dimentico. E questo è il problema. Poi io schiaccio una volta. Fa due volte il salto. Come. Mi fa solo capire una cosa. Come può una persona capire dove andare. Se è invisibile l'ostacolo. Giusto per capire. Non per fare rompiscatole. Non so dove andare. Allora. Però forse. È un livello. Molto corto. Perché siamo già al 14%. Se riuscissi a finire un livello. Hard. Hard. E poi comunque no. Però. Un livello difficile. Sarebbe un'ottima cosa. Cosa devo fare? Devo saltare là. Non l'ho capito. Madonna. Dai dei suggerimenti. No. Ah. Devo. Devo. Devo fare qualcosa. Non ho capito cosa. Ma qualcosa la devo fare. Madonna. La difficoltà di questi livelli. Raga. Oh. Ok. Allora. Forse non devo toccare nulla. Potrebbe essere anche questa la soluzione. Come in questo caso. Non devo toccare nulla. Io tocco. Quando non devo saltare salto. Guarda. Che schifo. Dai. Ti prego. Facciamo un livello difficile. Ok. Non tocco eh. Devo toccare. Non. Non so cosa. Cosa. Prima l'ho fatto. Non ha funzionato. Madonna ragazzi. Però fate questi livelli contro. Cioè proprio mi odiate. Ammettetelo però. Ammettetelo che mi odiate a morte. Dai. Ok. Ma cosa. Allora. Dai. Arrivati a un punto. Bisogna. Ce la faccio. Oh. Cosa. Cosa è successo. Non riuscirò mai più a farlo. Lo sapete meglio di me. Cosa ho fatto. Che cosa. No. Non riuscirò mai più raga. Mi è andato in pappa il cervello. Non so cosa è successo. Ho fatto qualcosa. Si promettimi. Gli ostacoli misibili. Così riuscirei a fare qualcosa. No. Ma dai. No raga. È impossibile. Dai. Ok. Clicco. Sto cliccando. Non va. Clicco e non va. Ok. Vediamoci conto che clicco e non va. Clicco e non va. Prima l'ha fatto. Adesso non lo fa più. Si ha rotto le scatole di farlo. Basta sapere. Oh. Ok. Non dovevo cliccare. Ma vedi che io non lo posso sapere che devo cliccare oppure no. Se non si vede niente. Ma cosa pretendi. Eh. Ma porca vacca. Ma questi livelli non esistono nel gioco originale. Perché uno non lo può sapere dove andare. Sei un veggente. Ok. Hola. Raga. Allora. Basta. Basta. D'amor. Basta. Basta. Non ce la faccio. Oh. Oddio la gola. Tra l'altro siamo in live da quasi un'ora e mezza signori eh. Attenzione. Tra poco possiamo anche salutarci. Diciamo che arriviamo a due ore e per oggi ci possiamo salutare. Ciao Mattia Corme. No. Mattia Cometti con due euro. Grazie infinite Mattia. Proviamo questo. Che tra l'altro non ha valutazione. Proviamo ragazzi. Proviamo. Magari è figo. Dai. Proviamo un po'. Ecco qua. Guarda che casino già. Ma cos'è sta figata. Oh. Oh. No è vera. Raga non sto facendo niente. Sto vincendo. Io mi sento dio. Mi sento dio. Ho sceso in terra e c'è anche una musica fighissima. Non puoi perdere. Non si può perdere. Qua proprio gli ostacoli non hanno neanche. Non puoi perdere. Ma è bellissimo. Che musica è sta figata. Faccio così anche per evitare che mi asciughino la vita col copyright. Quindi magari. Ma io non devo fare niente in pratica. È un altro livello che si gioca da solo. Meraviglioso. Ma sti livelli sono bellissimi raga. Ma ditemi se non sono meravigliosi dai. Ma parte il drop. Quello cattivo eh. Madonna raga. Mani su. Mani su. Ma dove? DJ oggi. Dai. Ma sei un grande. Ma che cosa hai creato? Ma cos'è sta musica? No ragazzi. Guardate il movimento della mia testa. Ma vi ne tenete conto? Ma dovete ballare con me assolutamente. C'è il drop pure. Ma David Guetta levati. Sto avendo delle convulsioni probabilmente. In realtà non sto ballando. C'è troppe luci negli occhi. No ragazzi siete fantastici. C'è guarda che cosa ha creato. Ma è incredibile. È incredibile. Madonna Alex 949. Cosa hai fatto? Meraviglioso raga. Meraviglioso. Andiamo avanti. Vediamo un attimo. Facciamo questo qua. Fancy giocami. Con la K. Meraviglioso. Di Cyborg's Fever. Ok. Proviamo anche questo. Calmo. Calmo un attimo. Ciao One. Livello easy. Eh ho già perso. Figurati. Quindi non lo so se è livello easy. Fammelo giudicare a me. Ok. Complimenti. Grazie mille. Ho finito. Ma ora supera quest. Hai sfidato e hai vinto. Porca vacca. Speravi che io ce la facessi vero? E invece no. Ci ho sperato anche io. Ma come hai potuto vedere. Non me la sento di vincere. Grazie per avermi fatto i complimenti. Solo che. Come puoi vedere. Non ce la faccio. È arrivato alla fine. Porca vacca. Come ho fatto a perdere di nuovo. Ma sto perdendo in un livello del genere. Ma come si fa? Ma tra l'altro nel gioco originale. C'è proprio nei livelli fatti da Geometry Dash in persona. Hanno aggiunto qualche. Oh. E che caos. Ci voleva tanto. E che cos'è? Hanno aggiunto per caso dei livelli. Quelli proprio creati. C'è capito no? Vediamo un attimo. Ecco qua. Electro. C'è solo per leggere i nomi ti viene mal di testa. Finger Dash. Qualcuno che non ho mai provato. Tipo Blast Processing. Processing. Dai proviamo. Tan 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 tan. Questa canzone la conosco ed è un fottuto macello. Come il livello. Tan tan tan. Perché devi andare a ritmo. Capito? Peccato che anche andando a ritmo muori. Ecco. Questo è un livello proprio fatto da geometry dash Quindi è ufficiale Il problema è che In teoria quelli che fate voi sono un po' più difficili Oh no! Che cavolo ho fatto? Che stavo facendo? Mi aiuta ad andare a ritmo Non mi aiuta sempre Mi aiuta solo a volte Allora anche questo in realtà è un macello come livello Come potete vedere Il casino È che siamo ancora all'inizio In realtà per me questo è già difficile Ma non lo è Ecco, non lo è Per niente Riusciamo ad arrivare almeno al 15% Io mi ritarei già abbastanza soddisfatto in realtà Vediamo Era giusta questa cosa Però non basta Non basta soltanto capire cosa bisogna fare Devi anche poi andare avanti Madonna per guardare sto livello mi sta venendo mal Oh! Madonna ragazzi! Dai, 15 sono arrivato eh Sono arrivato Sto a 15 Ragazzi È sicuramente più fattibile dei livelli che fate voi eh Magari dopo divento un macello Però ragazzi attenzione Forse vi sono allenato con i vostri livelli che sono molto più difficili Adesso questi sono una passeggiata Stavo scherzando Cioè Diciamo che sono Un po' più semplici forse Leggermente Non lo so Allora oggi abbiamo fatto dei giochi che sono sbagliato Dei giochi che sono molto semplici Getting Over it Geometry Dash Eh dai Meraviglioso Meraviglioso Sono proprio contento di fare questi giochi E di buttare via la mia sanità mentale Che è andata via qualcosa come tre anni fa Però Noi non lo diciamo Diciamo che c'è ancora dai Io ho cliccato però Io schiaccio Però non va Perché non va? Eh? Perché mi fai questo? Ah! Cioè voi avete finito tutti i Geometry Dash Per caso raga Siete riusciti a finirlo tutto quanto? No perché Complimenti Ho fatto una cosa che in teoria non doveva funzionare Ma infatti io poi ho perso Però in teoria non doveva andare così Allora un po' di concentrazione però eh E che cavolo In realtà questo livello non è difficile Ok Ok ho qua Non mi ricordo dove ho perso Mi ricordo Non l'avevo perso qua però Va bene Prima ho fatto a caso E sono andato avanti Ok Dai Non è niente di difficile qua Qua E non è difficile Però Se mi ricordassi cosa devo fare Sarebbe ottimo Non clicco Ok Non clicco il momento giusto Capito? Ok Ehi Perché prima sono riuscito? Allora È stato un caso vero? Prima l'ho fatto completamente senza motivo Cosa? You should not Ma smetti di prendermi in giro Non prendermi in giro Tu di qua non passi Lì cos'è la frase Del signore degli anelli Tu non puoi passare Non posso no No che non posso passare Guarda Sto facendo una fatica immonda Allora dai Ok Ma porca ho mancato il saltino Poi dopo faccio altri livelli vostri raga Non vi preoccupate Era solo per capire Come sono solitamente i livelli Di geometri dash Proprio no? Qua? Cosa devo fare? Forse in quel punto devo tenere il premuto Sapete? Se non ricordo male in quel punto Bisogna tenere il premuto Non qua Non qua! Allora dai È fattibile Si può fare Mi sono distratto È ruttino quello Dai Ok Va bene Porca vacca Ci provo ancora due volte Poi basta Però sono arrivato a 15% Quanto meno Io mi ritengo già abbastanza soddisfatto Un livello del genere 15% È un botto L'ultimo tentativo Basta Non me la sento Dai Ok Ah La devo tenere premuto Raga secondo me È stato un piacere Veramente un piacere immenso Torniamo sui miei livelli Andiamo in fondo E vediamo un attimo Se ci sono livelli Che ancora Non ho neanche visto E ce n'è un bel po' Qua Facili Ci sono questi Allora Provo a livello di Cristiano 8 YouTube Fancy 3 Vediamo Ok Va bene Figo Bello Per il momento ci sta Mi piace Non ho preso quel portale Potrebbe essere un problema Io nel dubbio dico Che è stata un'ottima idea Non prenderlo Anche perché non è successo nulla Prendendolo Ma è fighissimo Che in questo livello Non c'è assolutamente nulla Si ascolta solo la musica E si vince ragazzi Si va A comandare Così C'è un ostacolo ogni tanto Giusto per rendere il livello Un po' Più Grandi ragazzi Good job Grande Cristiano Un livello meraviglioso Fancy paradiso Nel senso che muoio E andrò in paradiso Nel senso che questo livello Ti fa sentire in paradiso Perché è semplice Vabbè Iniziamo Dai Ma che cosa mi stai narrando Ma come hai fatto a fare ste cose raga Cos'è sta mano C'è il boss Non ho preso la mano So spacciato vero Sto per perdere Madonna raga Riuscite a fare delle cose che Non esistono nel gioco in realtà Come fate Perché questa mano mi sta seguendo Mi sta accompagnando Bellissimo anche questo Bellissimo Ottimo Ottimo Dai proviamo a fare uno tipo hard Dai che se no poi magari sembra che sono troppo forte Questo è short Questo è short eh Ok Oh Borca vacca Ok È fattibile Se è tutto così si può fare Guardate Au Ce la faccio raga Vi prometto che ce la faccio E se ce la faccio Dobbiamo arrivare a 10.000 like eh Dai Dai ragazzi No Oh Oh 49% Raga si può fare Lasciate like per favore Supportate Il mio sforzo di zoom a non è riuscire a fare un livello del È un casino Prima sono riuscito ma è stato veramente un caso raga Ok Questi livelli si fanno con la calma Con la calma e anche con un po' di bravura Quella potrebbe aiutare effettivamente Però Con la calma si fa tutto Eh ma non è facile questo raga Madonna concentrazione Ciao Ciao anche a te Ti voglio bene Anche io faccina che ride L'hai messo l'ostacolo pensando che Raga 10.000 like Dobbiamo arrivare a 10.000 like Ve l'ho detto che ce l'avremmo fatta Grande Ivan LOL LOL Questo è un livello difficile eh Però ce l'ho fatta Vedete che non sono bravo soltanto a fare i livelli facili Eh E scusate eh Allora proviamo Altro Proviamo anche questo Ok Anche qui è short Fancy Please Salutami Ciao carissimo Non ho letto il nome Dopo Ah no che lo dice lui Mi chiamo Bello che questo livello Sbitto Sbiz Non ho capito Gra Non leggo Bello comunque questo livello Perché è molto difficile E allo stesso tempo Non devi fare nulla Devi solo leggere Alla parte difficile Riuscire a leggere Effettivamente Non ho capito nulla Di quello che c'era scritto Quindi Effettivamente era difficile Ciao Sbitt06 Grazie mille per questo livello Andiamo un po' avanti Dai Siamo a 171 Ma 19 pagine Ma quanti ne avete creati Raga 20 pagine Proviamo questo Dai Di Franci08 VGF Anche questo short Dai Ho perso Come non lo so Ho perso Non lo so Ok Va bene Easy Cosa Metti qualche ostacolo in più La prossima volta magari Dai era un casino Quella parte Come fai Giusto per capire Forse questa parte La devi saltare Mamma mia Non so cos'è successo Questo lo voglio finire Non così Però ci tengo a finirlo Perché è un po' più difficile Però allo stesso tempo Secondo me Si può fare Madonna Se è difficile Porca vacca Raga Allora Così Qua Ok E ma Cosa Devo passare al centro Devo trovare il modo Per passare in mezzo al buco Eh Non è facile Madonna Non è facile per niente Tanta Eh si Hai messo un bel po' di ostacoli Davanti a me Come faccio Porca vacca ladra Incastrata dentro Al duomo di Milano Dai Ma come faccio A passare lì in mezzo Forse poi dopo è facile Magari eh Non lo so Ma sto sbagliando qualcosa Sto sicuramente Sbagliando qualcosa Eh Dai Passiamo su Madonna Avevo fatto una cosa incredibile Però non è servita niente Passa da qua Qua così Eh Potevo andare dritto Potevo non toccare nulla Magari io ce la facevo Non lo so È tutto a caso Ah Che 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 Tadonna Dai Qua Ma porca Forse devo scendere Non lo so Raga È un casino Ma porca vacca Ma cosa devo fare Ma come fai A fare sti livelli Mi gira la testa Sto proprio male dentro Raga Mi gira il cervello Ah Ma cosa Cosa dovrei fare Come Poi sopra Non c'è una strada Quindi per forza Da qua devo passare Non c'è un'altra strada C'è Ah Ehi Perché ho perso Forse non devo toccare nulla lì A una certa Devo fare da solo Perché ho perso Dai L'ho passato Prova a non toccare Allora Arrivato a quel punto Prova a non toccare più nulla Mi sa che quella è la soluzione Dai Ci sono arrivato Dopo 28 tentativi Forse Magari sì Dai Eh no Devo toccare invece Allora mi prendi giro Allora mi prendi giro Ti prendi gioco di me Allora riproviamo Dai Ma porca vacca ladra Non è facile eh Non è facile per niente Oh Troppo Devi dosare la potenza E se no Non ci passi Come ho perso Non lo so Siamo già a 33 Gli anni di Cristo Ma porca vacca Sto sudando eh Ho le ascelle pezzatissime E lo so che è un'immagine orrenda Però che vi devo dire Facciamo che arriviamo a 40 tentativi E poi Passiamo a un altro Perché Sì vabbè 41 Visto che qua Non mi sono neanche accorto Di come ho fatto a perdere Ok Dai Ma passa Madonna Quadratino Sei proprio inutile Oh Sì Dai dimmi che è finito Anche qua bisognava giocare Pensavo fosse solo una scritta Porca vacca Pensavo fosse solo una scritta Me ne sono accorto Quando era troppo tardi No Sì però dai Ma vigliacca terra Ma vigliacca terra Veramente Vigliacca terra Dai avevo fatto un miracolo Non ce la farò mai più Non ce la farò mai più Proprio No Ma come si fa Ma perché Dico io Come si fa a fare un livello del genere Dai Allora dopo devo cercare di schivare Tutte le scritte Perché quelle ti ammazzano Ok Va bene Qua bisogna schivare Raga per forza Stavo dicendo Stavo dicendo Cristiano Palazzolo Con un euro Grazie infinite Cristiano Gentilissimo Non si può fare Raga Non si può fare Guarda mi sono distratto Non mi ricordo più dove mi trovo Finirò la live E non so proprio neanche In che posto mi trovo Ok Va bene No al contrario Ciao Fexy Mi saluti Please Ciao carissimo Ciao Francisarotto Grazie mille per aver fatto questo livello difficile Ma sono riuscito alla fine Grazie Oh mio Dio Raga like Raga like Dai Raga like Oh Questo era anche facile Com'è possibile Facciamo ancora questo Siamo un'ora e 46 di live Ragazzi Livello di roaming Anche questo short Dai Grande Livello Ma cos'è Cos'è Ma perché schivo Allora Devo rifare Devo prenderlo questo Ok Ok Devo tenere su Ok Maddonna Cos'è su Meno male che ho messo le frecce Sennò potevo perdere all'instant Guarda che casino che c'è Ok Sto saltando Ho perso solo una volta Senza motivo Dai Grande roaming Ragazzi Sto facendo tutti Sono diventato fortissimo Proviamo questo Sdarn Senza Valutazione Potrebbe essere figo Ah giusto Aspetta Devo scaricare la canzone Tiny È tiny Raga like Ce la facciamo arrivare a 10.000 Per questa like Ce la facciamo arrivare a 10.000 like Ho sclerato tutto il tempo Tra getting over Di te gioco di dash Che sta figata Ho preso un teschio Ma che figo è Ma stai scherzando Così Tutti i livelli Incredibilmente colorati Che si muovono No Cosa sto facendo tra l'altro Sono stupido Quando mi accorgo Che sto facendo un miracolo Perdo Perché mi prendo bene Inutilmente È quello che succede Ok Va bene Va che musica 7% Questo in realtà È abbastanza lunghetto Porca vacca Dai Ok Ok Va bene Mi mette le frecce Per capire Sono di tutto piccolo Vabbè Eh sì È una valutazione È una valutazione È fighissimo Dai È un macello Perché c'è veramente Deve avere 11 mani Altrimenti non ce la puoi fare Però Fighissimo Raga Molto colorato Devo dire Un po' tenebroso Anche la musica Però è figo Qua diventi piccolino Devi fare attenzione Se appunto Devi fare attenzione Lo dico e perdo Madonna Mi sta esplodendo la gola Ok Dai Se riusci Se riusciamo a finire Sto livello C'è Voglio 27 Sì vabbè Ma dove sto andando Ma cosa voglio fare Cosa sto facendo Dove voglio andare Se riesco a finire Sto livello Sì Guarda Guarda che meraviglia Ok Dai Cos'è buono i texchi Sono tipo le monete Che ci sono negli altri livelli Qua ci sono i texchi Ottimo Molto figo eh Madonna santa Oh che livelli Che create raga Porca vacca Ma quanto ci mette A fare sti livelli Delle ore Sicuro E io ci metto Tre minuti a perdere Però È meraviglioso Vero Tutto questo È pazzesco Ok Va bene Ottimo Ok Perché adesso non riesco più Sto perdendo all'infinito In quel punto Vai che Sono di anche più piccolo Perché non ci passo Non capisco Allora E dai un po' Adesso sclero però Sto sclerando Sei barbagianni Ecco quello Basta Fammi andare avanti Voglio vedere sto livello Com'è che si evolve Cosa succede Ok Ottimo Le sfere Ok Va bene Dai portiamo pazienza Giustamente le persone Vogliono creare un livello figo Per rendere il gioco Più interessante Sono io che non sono capace Che posso giocare solo A livelli stupidi E semplici Altrimenti perdo Guarda Non devo toccare La devo smettere Di cliccare a caso Ok Dai Va bene E fin qua No problem Stavo dicendo esattamente Perché quando parlo Crepo Perché succede sempre questa cosa Io non comprendo Perché Ok Allora Dai Forza un po' Ok Ok Va bene Va bene No No Ho sbagliato di nuovo Allora Ciao Mattia Speranza Ciao Alberto Di Paolo Dio santo Raga Devastante Ciao Alessandro De Simone Ce la fai Non lo so Sai Alessandro Non credo Che io ce la possa fare Ciao Black London Scusate se non ho letto Tanto la chat Raga Però Veramente Veramente Come potete vedere Non ci si può distrarre un attimo Con i livelli di Geometry Dash Ciao Francesco Mascio Pinto Ciao Maria Teresa Col Colamora No Colamorea Ciao Andrea Giuliani Ciao Dani Tecno Dani 5 Tecno Ciao Antonino Martino Ciao Desiree Casilli Adesso Ricontinuiamo Raga Tranquillo Ciao Giulio Do Giulio Dodorico Ciao Di Gregoli Chiara O Di Gregoli Poi 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 Vediamo Ciao Matteo Franzoloso Ciao Giorgia Medici Ah Andiamo avanti Dai Riproviamo Dicevo Scusate se non sto leggendo molto la chat Raga Però Come potete vedere Cioè È un macello Geometry Dash Cioè io pensavo Dopo che Team Goverit Facciamo Un po' Geometry Dash Così Almeno Ci rilassiamo anche un po' Con le musichette fighe Con i vostri livelli Ci stiamo proprio rilassando È peggio che andare di notte Dopo che Team Goverit Potevo fare Barbe e gli amici del fantabosco Non lo so Una cosa del genere Ok Va bene Ottimo Ok Cos' Ah Forse li devo tenere premuto Ok ragazzi Va bene Bastava dirlo Si può fare È fattibile Solo un po' Incasinato In alcuni punti Però È fattibile È fattibilissimo State certi Che È fattibilissimo Ok Va bene Ma porca vacca Tra l'altro Raga L'avete visto L'ultimo video Che ho caricato Su Zack King Le magie No Fidatevi raga Se ve lo siete perso Andatevelo A recuperare Perché è fighissimo Condividetelo Se vi va Veramente Fa delle cose Che non hanno senso Perché mi dimentico Di tenere premuto Devo fare troppe cose Non ce la faccio Mi dimentico Raga Non ce la farò mai Ci provo ancora un paio di volte Poi basta Raga Non me la sto più sentendo Ho la gola morta Completamente Comunque Mi raccomando Mi raccomando ragazzi Rimanete Cosa dovrei fare là Ho tenuto premuto Mi so ricordato Ma poi Non lo so che cosa devo fare Se non me lo dici Io non lo posso sapere Mi raccomando ragazzi Cercate di rimanere Sintonizzati Sul canale Perché ci saranno Cose fighe Non perdetevi video Mi raccomando Raga Il prossimo video In teoria Uscirà Martedì Mi raccomando eh Non perdetevelo Ne vale la No L'avrei dovuto cliccare Sono a 17 solo Non ce la posso fare Non me la sento Ma vi rendete conto Madonna la difficoltà Ragazzi Cioè lì Ero riuscito a fare Il miracolo E ho sbagliato Perché ho continuato A cliccare Perché non ho guardato Cosa c'era dopo Vi rendete conto Ero riuscito E non sono arrivato Neanche al 20% Quindi dura anche Un po' sto livello Non è solo difficile Dura pure un botto Ok dai Riproviamo Così Ok Che cosa è successo Non capisco Che cosa sia successo Allora ragazzi Vi ricordo tra l'altro Che questa live Rimarrà sul canale Anche se mi piacerebbe Toglierla Essendo che faccio schifo Però rimarrà sul canale Quindi potete Recuperare Tutto quanto Quando vi va Quando volete Condividetela Se vi fa piacere Con i vostri amici Mi raccomando Mi fate Un grande favore Facendo così Mi raccomando E ragazzi Ok Va bene Ottimo Clicco Ma non va Vorrei arrivare Almeno a 20% E poi chiudere Proprio completamente Anche qua Dovrò disinstallare Pure i geometri dash Raga Mi sa che dovrò fare Anche questo Pure i geometri dash Dovrò disinstallarlo Perché non fa per me Cioè io sti giochi Non li posso Io sto male Mi gira la testa Mi fa male Il cranio Mi fa male Il cervelletto Mi fa male Il coccige Mi fa male Tutto Non me la sento E che cavolo Allora Dai Ok Qua niente di Incredibilmente difficile Non so neanche a quanti tentativi siamo Già Non lo voglio sapere Sicuramente è un risultato Pieto Toso Mi dimentico Che devo tenere premuto Non ce la farò mai Raga Non è più forte di me Non ce la posso fare Non ce la posso fare È imbarazzante Dai Ti prego Dai che non è difficile Qua ancora non è difficile Fino ad arrivare a 20% Secondo me non è difficile E dopo che iniziano i problemi Ok Cosa devo fare? C'è un boss Maffan 20% Però ci sono arrivato ragazzi Nicolas S Con un euro Grazie di cuore Nicolas Ragazzi provo l'ultima volta Perché voglio vedere se riesco a sconfiggere il boss Perché adesso è una sfida personale E poi Basta per oggi Perché veramente Raga Cioè Non ce la faccio più Il mio cervello Ha un tot Di durata Poi si scarica Non ce la va più Quindi Ecco Diciamo che per oggi Ho fatto Ho fatto la mia Schifezza Ok Siamo tornati al boss Vediamo quello che sai fare Eh però tu Spari un bel po' Eh voglio dire Datti una calmata Non sto prendendo le monete Ma raga Chi se le fa Certo che se però All'improvviso Mi Arrivi incontro Cosa dovrei fare io Eh Boss delle mie scatole Non ero riuscito a fare il miracolo Di nuovo Allora Se non l'ho capito male Ci sono dei punti esclamativi E quelli vogliono dire Guarda che da qua passerà Il boss Quindi Ocio Solo che io l'ho capito tardi Va bene Riproviamo Ragazzi Non è un problema Adesso come vedete Riesco subito Eh Ok Forza così Calmi Occhio Ok devo stare sotto Va bene Vedete ci sono i punti esclamativi Madonna ti prego Dai Fammi vincere Dai ero quasi al 30 ragazzi È un figo livello È un figo livello Non è un livello figo È un figo livello Dai era figo Ce la stavo facendo Perché ho dovuto perdere Come un cretino Noi ci riproviamo ancora Un paio di volte E poi basta Raga dai Però è figo eh Molto bello come livello Ci sta Dai boss Non ho paura di te Dai Vini qua Fammi vedere quanto vali Malevati con ste pali Dove ho perso Ma cosa è successo Manco me ne sono accorto Che cosa è successo Perché ho perso Niente dai Va bene Ok Non è successo niente Ok Qua ormai non perdo più eh Non devo parlare Devo stare zitto Ok Ottimo Qua ormai Questo livello Non ha più segreti per me Questo segreto Stavo dicendo Ok Occhio qua Va bene Non sto prendendo le monetine Ma raga Sinceramente Non me ne frega molto Qua bisogna fare Molta attenzione Ok Oh l'ho detto E devo fare attenzione Sono proprio stupido Sono proprio stupido Sono proprio scemo Sono proprio cretino Sono proprio deficiente Tutto Tutti gli aggettivi Sono giusti per me Mi identificano tutti Tutti gli aggettivi Cattivi Raga mi raccomando Like dai È stata una live Che veramente Il mio cervello È stato torturato Tantissimo Vi prego di supportarmi Eh Ok Dai Cos'è poi Un pipistrello Cosa fa Lancia testicoli rossi Cosa Pensavo di aver perso Vi giuro Ero convinto Ok Va bene Devo saltare Ok Sì Così Ragazzi Allora Secondo me Non è difficilissimo Perché arrivi a un punto In cui sai Quello che devi fare A parte qua Che l'ho fatto 28 volte Anzi 42 E ancora Continuo a perdere Ma in realtà Questo livello Una volta che capisci come fare Boh Easy Si fa Senza problemi Adesso Io provo Le ultime volte Poi basta Per oggi ragazzi Concludiamo questa live Vi prego Mi sta esplodendo Il cranio Ma non avevo sbagliato Però è andata bene Lo stesso Ok Dai Ti prego Fammi andare Avanti Anche arrivare al 40% Sarebbe un'ottima cosa E per quanto mi Stavo dicendo Stavo dicendo Anche arrivare al 40% Sarebbe un'ottima cosa Se arriviamo al 40% Bom Sono soddisfatto E concludiamo questa live Ragazzi Dai Dai Spero che vi siete divertiti Oggi Dai A vedermi soffrire Spero vi sia piaciuta Questa live Ragazzi Adesso vi faccio Un sondaggino Così a caso Non serve a niente Però ve lo faccio Lo stesso E poi concludiamo Anche se penso Di conoscere Già la risposta Ma perché voi Siete troppo buoni E non mi direte mai La verità Probabilmente Va bene Madonna Stavo dimenticandomi Che avrei dovuto saltare E' andata bene Ok Va bene Ottimo Ultimo tentativo Ragazzi Mi giuro Poi basta Mi sono rotto Tantissimo I tre quarti Di E voi sapete Che cosa Basta Ultimo tentativo Giuro Poi Boom Perché Non è fattibile Ci sto provando Da un bel po' Mai Non riesco Ok Vai Ottimo Sto post Mi sta facendo Perdere un botto Di tempo Ma ti levi Sto pipistrello Stupido Stavo per Prendi No Proviamo A non dire Nulla O poco Comunque Perché Ragazzi Devo capire Qual è il problema Io Continuo a fare Sempre i stessi errori Perché non Comprendo che Arrivati a un punto Devo saltare In un determinato modo Altrimenti Perché non capisco Perché so stupido Cioè Più forte di me Compre Madonna Stavo per perdermi Non l'ho dimenticato Vedete Vedete che ho dei problemi Ok Va bene Stavolta È la volta buona Me lo sento Ok Ragazzi Così Ora Bisogna saltare Va bene Dopo non bisogna saltare Bene Bene ragazzi Abbiamo Raggiunto Un livello Di schifo Incredibile Guarda che capelli Sembro pavarotti È incredibile Sono Raccapricciante Allora Faccio un piccolo sondaggio E poi Vi saluto Raga Mi raccomando Siate sinceri Eh Mi raccomando Eh raga Ok Andate A rispondere In chat Che vi ho fatto Il sondaggino Raga Mi raccomando Siate sinceri Che così io posso migliorare Eventualmente Ecco perché vi faccio queste domande Il 3% dice no Su 160 voti Cercherò di migliorare Così che Questo 3% Non ci sia più Anzi 4% Non ci sia più Vi giuro che migliorerò Sempre di più Raga 550 voti Dai però Io spero che siate sinceri Nel mentre che mi rispondete A questo sondaggino Spero veramente Che vi siate divertiti Raga Faccio così L'avete visto? Il mio Messaggio in chat L'avete Trovato? L'avete visto Raga? Dai 775 voti 95% Si è divertita In questa live Il 5% No Cercherò Di rendere anche Quel 5% Che si diverte Ecco Dai 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 Ce la possiamo fare Non l'avete letto Il messaggio? In chat Raga Vi ho scritto una cosa Ve lo riscrivo Ve lo riscrivo Raga Occhio alla chat L'avete visto? E' apparso sicuramente Dai che l'avete visto Antonio 40 Con 5 euro Grazie di cuore Antonio Non era necessario Però lo apprezzo un sacco Ti ringrazio tanto Veramente Gentilissimo L'avete letto raga? Dai dai Stavolta l'avete letto Ogni tanto voglio scrivere Adesso scrivo un'altra cosa Così Perché mi va Avete letto? L'ho scritto Desiree Casilli Con un euro Grazie infinite Desiree Gentilissima Davvero Avete letto? Ho scritto un'altra cosina Carinina Carinina Arriviamo a 10.000 like Raga Siamo a 9177 Mi raccomando ragazzi Vi ricordo che la live Rimarrà sul canale Quindi potete guardare Quando volete Potete condividerla Con i vostri amici Che magari Se la sono persa oggi Che non sono potuti Non hanno potuto Assistere ai miei problemi Alla mia sofferenza incredibile Su Getting Over It Quindi mi raccomando ragazzi Di condividere la live Lasciate Lasciare like Se ancora non lo avete fatto E niente ragazzi Sono contento che Da quello che mi dite voi La maggior parte Si sia divertita Sono davvero contento Di ciò Spero Di fare sempre meglio In realtà io Spero che vada Sempre meglio Ragazzi Mi raccomando Non perdetevi i video Che usciranno Nei prossimi giorni Rimanete sempre Rimanete sempre sintonizzati Perché quello sarebbe Il regalo più grande Che potete farmi Condividete sempre i miei video Se non lo fate Ragazzi Tanto è gratuito Lasciate like Fate tutto Quanto che è gratuito Però allo stesso tempo Mi supportate E ve lo dico già Ragazzi Nei prossimi giorni Uscirà un video Magico Non dico altro Non sarà Una reaction Sarà un video Magico Però non dico altro Rimanete sintonizzati Mi raccomando Raga Mi raccomando Ecco Altri 5 euro Sempre da Antonio 40 Antonio non è necessario Sono già 10 euro Che se ne vanno Ragazzi Tenetevi i soldini Però l'ho appreso tanto Un bacio grande Antonio Ti voglio bene Grazie mille ragazzi Davvero Grazie 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 Siete fantastici Siete unici E ve lo scrivo E ve lo scrivo E ve lo scrivo Purtroppo il mio messaggio Viene un attimo Sommerso dagli altri Però dovrebbe Vedersi Dovreste riuscire a vederlo Siete unici Ve l'ho scritto in chat Posso anche terminare Il sondaggio Per fortuna La maggior parte di voi Si è divertita Speriamo che vada sempre meglio Dai Speriamo Va bene ragazzi Allora Ci vediamo Nei prossimi giorni Con nuovi video Sul canale Mi raccomando Andatevi a recuperare I vecchi video Se ve li siete persi Non mancate ragazzi Nei prossimi giorni Fidatevi di me Se ve lo dico Vuol dire che Ne vale la pena Grazie per essere rimasti Qua con me Per due ore E dieci minuti Grazie 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 ragazzi Vi voglio tanto bene Davvero Vi mando un bacio Immenso Immenso ragazzi Davvero E un abbraccio Virtuale Speriamo che un giorno Ci si possa anche Incontrare di persona Sarebbe fantastico Così vi abbraccio Tutti uno a uno Grazie mille a tutti Ragazzi davvero Vi mando Un bacio gigante A tutti quanti Grazie per essere rimasti Qua con me Questa domenica pomeriggio Ci vediamo martedì Con un nuovo video Sul canale Ditolo anche ai vostri amici Non mancate Ragazzi Mi raccomando Rimanete sintonizzati E attivate la campanella Se ancora non l'avete fatto Così vi arrivano le notifiche Ecco Va bene ragazzi Allora vi mando un bacio Grazie ancora Di cuore A tutti ragazzi Veramente Siete unici Vi voglio tanto bene Un bacio ragazzi Ok Facciamo Ok Hola Ve l'ho scritto in chat Ciao ragazzi Grazie ancora di tutto Un bacio grande Vi voglio bene Ciao ragazzi Grazie ancora Passate una buona serata Mi raccomando E se non avete ancora mangiato Buon appetito E buon inizio di settimana State bene Mi raccomando ragazzi Ciao ragazzi Un bacio Vi voglio bene Ciao ragazzi Buona serata Ciao ragazzi Ciao ragazzi